8.000 controlli, 600 illeciti riscontrati, soprattutto è aumentata la qualità della capacità di rilevazione dei problemi che esistono nella nostra provincia. È trascorso un anno dalla nuova organizzazione di tutela forestale ambientale ed agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri. In provincia di Arezzo sono state confermate tutte le strutture preesistenti dell'ex corpo forestale, costituite oggi nel gruppo di Arezzo tutela forestale, i reparti dei carabinieri per la biodiversità di Pieve Santo Stefano e Prato Vecchio e quello del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. In totale 93 unità di personale che attraverso i rispettivi uffici integrano i servizi della fondamentale organizzazione territoriale del Comando Provinciale. L'integrazione con la struttura territoriale è ottima, è cresciuta, la dobbiamo scoprire ancora, ma attraverso il coordinamento delle sale operative del 112 la nostra organizzazione, il nostro personale in servizio in campagna non è più solo. Tante le operazioni portate a termine in questo primo anno di attività. Dall'accertamento dei gravi fenomeni di bracconaggio ittico nel vaso del Monte D'Oglio, dove è stato riscontrato appunto l'ingresso di un'organizzazione strutturata molto forte diciamo di bracconieri ittici, possiamo dire che è stata un'operazione che in qualche modo ha struncato insomma questo fronte che si stava affermando anche nella nostra zona. Altri accertamenti diciamo sono il più grosso sequestro di animali maltrattati nella nostra provincia presso un agriturismo condotto in maniera piuttosto diciamo problematica. Un altro grosso accertamento di un mega abusivismo edilizio nel falde del Prato Magno con l'interessamento di una zona di conservazione della natura. Anche questo diciamo è stata un'operazione diciamo abbastanza complessa. Solite attività sul fronte diciamo della tutela dell'agroalimentare, olio, miele e non dimentichiamo gli incendi. È stato un anno infernale, l'ho definito questa stagione estiva scorsa. Siamo riusciti a individuare responsabilità in sei casi di incendio. E questo diciamo è stato anche un successo, non era mai successo perché riuscissimo a individuare così tanti casi appunto di responsabilità.